Sto perdendo lentamente le ore, ho perso completamente il posto che avevo a Formia, stavo a dieci minuti da casa, posto preso insomma anni fa, era una vita che stavo lì e sono stata trasferita a Latina, che sta a metà strada tra Roma e Gaeta. Di conseguenza la mia vita, io sono fortunata perché ho una casa a Roma, quindi insomma me la cavo, sono trasferita un po' a Roma, poi vado a Latina, poi vado a Gaeta perché c'è mia madre 85enne, insomma l'ha tenuta, l'ha controllata un po', e niente, e ho ripreso a fare la viandante come se avessi, non lo so, 22, 23, 25 anni, 18, adesso ho deciso anche di fermarmi a Latina perché non ce la faccio proprio andare la mattina alla prima ora alle 8 e mezza, scusatemi sarà stato il vizio, sarà che io ho avuto il privilegio di essere in ruolo, di avere una situazione, ma anche l'età è alta, eh, l'età non la volevo dire, penso che sia l'inga, siamo sempre lì, e niente, che cosa devo dire? Sì, l'ora di religione è un sistema, ci sono tante cose da fare, io vedo che, questo è stato proprio un canale.